voglio c'ho sto mare fuori, c'ho sto mare fuori, c'ho sto mare fuori, la rete sparre sotto scena c'ho sto mare fuori, c'ho sto mare fuori, c'ho sto mare fuori che son chi? Ciro, son che cattivo, mamma mia sei cattivo Ciro, senti, cattivissimo, hai capito Cicatrici perché hai fatto la rotta in carcere Carmine, andiamo a futuro, 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 ma che è futuro? La tua tipa, Loch Ness, nostre sfumone, questa è Clara, è Clara, questa è Clara, Crazy J, Clara non sono io No, Clara non è lei, lei è Crazy J, Crazy J, Trapper, di successo, scusa, scusa Ti sta rubando i pezzi, ti sta rubando i pezzi, ti sta rubando i pezzi, ti sta rubando i pezzi Ti ha rubato i pezzi, ti ha rubato i pezzi, ti ha rubato i pezzi, ti ha rubato i pezzi Chi ha fijo, hanno fottuto i pezzi! Senti, ci sta la direttrice, a difendere, a difendere, a difendere! Che sta succedendo qui? Ma qui cammina! Questa non zoppica più? No, non hai calzo? Eh, è stata a Trevegnani, è stata la Maronna! Ah, la Maronna! Ho fatto un miracolo! È stata a fisioterapia comunque, che stavi facendo? Ah, è stato un miracolo con la Maronna! Non è stato un miracolo con la Maronna! Grande, steve un miracolo con la Maronna! Sì, è un avuto, è un'ora che stai facendo la Maronna! Non ho capito! Sì, tornate in cella. Come torniamo in cella? Un'ora è passata un'ora, torniamo in cella che ora arriva la guardia. Ah no, io non ci voglio stare a guardare. Comandante, comandante. Buongiorno. Buongiorno. Chi sta a fare in questo posto? Ha sentito il burdello? Ma lo dica lei. Senta, ma vorrei capire questo fatto, ma perché non sa parlare napoletano? Io sono perugina in trasferta a Napoli. A Napoli? Io sono a rimborso. Non l'ho ben capito, comunque se è possibile faccio il suo lavoro, grazie. Io faccio mantenere l'ordine del cortile, ma non ci sta più nessuno. Presidente, o me, la totipa, Loch Ness, comandante, uno o nei, honest. Chi sta a trappa?